E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto mentre Powell sta andando avanti con la sua conferenza noi andiamo a vedere i grafici per quello che sta accadendo vi ho tweetato appunto poco fa il fatto che appena Powell avesse finito un po' di parlare saremo andati a fare un update importante ho deciso di farlo adesso proprio perché più o meno le cose che doveva dire le ha dette e quindi di conseguenza andiamo un pochino a riassumere e andiamo a capire cosa cambia adesso cosa cambia nell'outlook della Fed cosa cambia e cosa lui ha detto ai mercati ok era più importante aspettare questa conferenza delle 8 e 30 perché sarebbe andata a dare una direzione una visione ok nel futuro prossimo di quella che è la politica della Fed mentre il dato a 25 basis point quindi l'aumento a 25 punti base è stato confermato e quindi di conseguenza andiamo a capire adesso che cosa sta accadendo il prezzo di bitcoin ha subito un po' di volatilità ne avevamo già parlato avevamo già parlato di un potenziale andate a vedere il video di questa mattina ritest pesca di liquidità in queste zone di supporto e così è proprio è stato perché siamo andati a pescare e siamo andati in questo momento a breccare questi massimi relativi sui 23,288 e proviamo ad andare a riattaccare a questo punto queste zone qua ovviamente i volumi lo vedete non serve che ve lo racconta io sono incrementati in maniera molto forte molto violenta proprio in questa fascia oraria qua quindi la volatilità è entrata in gioco ma cosa importante Powell ha parlato un po' di politica monetaria e soprattutto ha parlato un po' tra le righe come sempre ok bisogna cercare un po' di intendere le cose effettivamente a mio parere la sua conferenza è stata un po' più tranquilla rispetto alle scorse volte un pochino più ottimista sicuramente un passaggio importante è stato appunto su un giornalista che è andato a chiedere se effettivamente si è arrivati obiettivo o meno e lui è andato insomma a parlare abbastanza chiaro dicendo ci aspettiamo un altro paio di aggiustamenti dei tassi probabilmente in aumento per poi arrivare in obiettivo e quindi da lì insomma valutare il da farsi chiaramente tutto quello che ha ripetuto il fatto che con un'inflazione elevata non c'è economia che tenga quindi bisogna comunque fare queste move restrittive per poter concedere maggiore vantaggio a quelli che sono i consumatori a quelle che sono poi le imprese insomma ha parlato un po' da un punto di vista classico non speculativo non basato sul pump dei mercati questo siamo abituati a sentirlo da Powell ma il passaggio secondo me importante è stato proprio su questi ultimi step che se più 25 attuali dovessero confermare poi ancora un decremento della situazione potremmo aspettarci un altro magari più 0,25 un altro più 0,25 ancora oppure un più 0,25 poi flat ok nulla vieta a Powell e alla Fed di andare poi a andare in corso d'opera a ritararsi e sicuramente i segnali che stanno arrivando sono importanti quindi il mercato come ha reagito? ha reagito bene bitcoin sta reagendo bene volevo osservare con voi anche S&P 500 che ha reagito molto bene stessa cosa stesso movimento di bitcoin lo vedete pesca di liquidità e ripartenza che ora S&P 500 va a toccare i 4100 dollari va a buccare i 4100 dollari confermando questo bel movimento e questa bella accumulazione che ha fatto ma veniamo alle nostre cose cioè a bitcoin bitcoin intanto ripeto sta sui 23.000 non so perché succedono queste cose prendete perché me le faccio per conto mio e poi rimangono 23.400 dollari circa bel movimento serve comunque conferma siamo in una struttura interessante a livello daily ve ne avevo già parlato pesca sulla 12 ema che sta mantenendo e quindi buona struttura di lateralizzazione che potrebbe poi andare ripeto a riprovare in queste zone qua zone comunque che rimangono estremamente estremamente zone di cautela perché qua dentro ci sono parecchi short ma la pesca di liquidità anche qui nel lato up quindi sopra i 23.950 tutta questa zona qua è una zona ripeto che se andiamo a bucare con violenza potrebbe far accelerare il prezzo perché perché molti stop sono posizionati qua quindi andare a pescare stop e andare a pescare appunto squeeze da parte degli short si va ok a fare l'effetto valanga contrario quindi si va a innescare un long per andare a compensare lo short e quindi di conseguenza potremmo assistere a maggiore propulsione rialzista vi dico la verità tutto sommato mi è piaciuto in questo momento quello che ha un po' emerso cioè ci potevamo aspettare ora è ancora presto eh ragazzi quindi prendete sempre non sono così tre linee finanziari è un mio point of view ok e basta un mio punto di vista però tutto sommato quella che è stata la loro scelta la loro direzione è onesta nel senso ragionano sui dati che hanno in mano non è stata non si è verificata una conferenza aggressiva dicendo sì ma noi non ce ne frega niente che l'inflazione è scesa noi dobbiamo tirare su ancora più di tanto questo perché secondo me comunque alle porte c'è una potenziale recessione sanno benissimo che questi effetti dei tassi non sono effetti istantanei né sull'inflazione né sull'economia ma per i consumatori lo vedete nell'economia proprio reale quanto vanno a impattare sul grado di indebitamento sui debiti in essere sui tassi di interesse applicati ai consumatori su tutte queste cose che ripeto sono veramente pesanti ma che servono lui ha spiegato appunto per andare poi a costruire un'economia più sana più solida quindi non sta a me dire se ha ragione o torto sta a me però commentare la linea della fed che è una linea che a mio parere sta trapelando un obiettivo che è molto vicino è un obiettivo che ormai sentono vicino e quindi da lì poi uno stazionamento per poter avere il margine per aiutare l'economia nel caso ci fosse necessità riabbassandoli questo è il passaggio questo è quello che è emerso questo è quello che ho ascoltato io tra le linee guida quello che ha detto lui le domande che ha ricevuto insomma tra le righe questo è ora la conferenza stavano andando avanti ma si ripetono un po' le stesse cose cose nuove difficile che vengano tirate fuori e quindi tutto sommato bene bene anche il comparto al coin perché vanno a recuperare velocemente anche tiro 1627 molto bene il supporto che sta avendo sui 1550 si è dimostrato abbastanza solido e soprattutto recupero anche per il tiro della 12 e ma bene anche un po' tutto il resto del comparto abbiamo atom che è andato a fare una bella move anche se l'aveva leggermente anticipata sul mercato torna in zona 14 dollari a contatto con i 15 molto vicini bnb stessa cosa mantiene molto bene il suo uptrend una macchina lo vedete che tipo sembrano dei gradini per bnb continua a crescere ovviamente tutta la parte di coin anche a più bassa capitalizzazione stanno reagendo chiaramente nella stessa direzione di bitcoin e di quella di mercato importante ragazzi vi ripeto che venga confermato quello che è il siccome il trading view qua sta sbarellando è in totale fa quello che vuole però appunto come vi dicevo è importante che bitcoin confermi questa visione soprattutto che è sempre 500 dei mercati che vediamo estremamente corredati proprio in questa fase continuino su questa strada io mi fermo spero che questo night with crypto possa essere di aiuto io credo che possa continuare un po così nella giornata di domani se ci sarà necessità comunque domani mattinata andremo a fare un update altrimenti terremo valido questo video perché comunque ciò di cui c'è la necessità di parlare ve ne ho parlato adesso spero vi aveva fatto piacere un po anticipare il video perché quando ci sono questi momenti è importante arrivare a voi velocemente questa è un po la mia idea ed è quello che faccio con voi quindi se vi fa piacere riceverli vi ricordo un like di supporto al canale che fa sempre piacere un commento e se siete nuovi di iscrivervi con il clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati proprio perché ne faccio tanti time sensitive quando serve detto questo intanto vi ricordo di seguirmi anche sugli altri social twitter, instagram insomma un po di tutto trovate sotto in descrizione noi ci vediamo presto in un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti